Sarebbero scaturite da una coperta elettrica le fiamme che hanno avvolto un'abitazione nella campagna di schiavi d'Abruzzo al cui interno c'era una donna di 78 anni morta per asfissia a causa del monossido di carbonio. L'anziana si chiamava Santina di Carlo, viveva da sola nella sua abitazione in Contrada Valli. Il rogo è divampato sicuramente dopo le 18 di ieri, visto che intorno a quell'ora era andato via il figlio, 61enne, che vive nei pressi e che passava spesso a trovarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco di Vasto e di Agnone. L'abitazione è andata quasi totalmente a fuoco. La donna è stata trovata priva di vita vicino alla porta, forse raggiunta nel tentativo di salvarsi dalle fiamme e dal fumo. Il rogo è partito sicuramente dalla camera da letto e poi si è esteso agli altri locali.